Ciao ragazzi buona domenica! Questa settimana parliamo di tracker e calorie. In molti ci chiedete quale tracker è meglio comprare perché le vostre calorie consumate durante i workout spesso sono diverse da quelle mostrate da noi nei video e quindi una delle domande che ci fate più spesso è ma davvero si consumano le calorie che mostrate nei video? Allora visto che è un argomento un pochino lungo e oggi ragazzi essendo domenica non voglio rubarvi troppo tempo abbiamo suddiviso questo video in due parti. Oggi vedremo solo la prima parte quindi partiamo subito con la domanda numero 1 è come misurate le calorie che mostrate a video. Allora noi le misuriamo con questo tracker ne abbiamo provati diversi nel tempo e per i video utilizziamo un Fitbit. I parametri personali sono impostati su di me quindi 35 anni, 53 kg, 1 metro e 65 cm di altezza. Questi sono i parametri. Quindi anche quando si allena Tiago essendo lo stesso braccialetto i parametri impostati sono sempre i miei. Domanda numero 2 consumerò anche io le stesse calorie se svolgo il video allenamento? Allora le calorie sono molto ma molto variabili ci può essere una differenza anche superiore al 50%. Le caratteristiche individuali e l'intensità con cui svolgiamo l'allenamento determineranno quante calorie consumiamo. Per intensità intendo la frequenza cardiaca che si eleva all'aumentare della velocità di esecuzione degli esercizi e all'aumentare dello sforzo muscolare. Domanda numero 3. Gli orologi fitness sono tutti uguali? Allora se ne usiamo due al polso ci ritroviamo a fine allenamento con le stesse calorie consumate? La risposta è no. I tracker utilizzano principalmente la frequenza cardiaca come parametro principale. Poi tramite un algoritmo e i vostri dati di altezza peso ed età stimano le calorie consumate e vi assicuro che differiscono non di poco l'uno dall'altro. Questa settimana ad esempio durante un test di un video di aerobica siccome il nostro nuovo trainer di aerobica aveva il suo tracker abbiamo utilizzato contemporaneamente i due tracker. Il suo e il mio dove naturalmente ho cambiato i parametri togliendo i miei dati e inserendo i suoi. E anche se entrambi i tracker sono di ottima qualità è risultata una differenza di circa il 30%. Questo probabilmente è dovuto a diversi algoritmi di calcolo. Domanda numero 4. Come posso sapere con certezza le calorie che ho consumato per davvero? Allora purtroppo non si può farlo in modo agevole. Ci sono strumentazioni che tramite un'analisi dei gas respiratori, ossigeno e anidride carbonica riescono a calcolarlo proprio con precisione ma il test va effettuato in cliniche specializzate quindi nulla di pratico nella vita un po' di tutti i giorni mi sembra ovvio. Ed eccoci alla domanda che sicuramente io lo so non mi vedo ma lo so vi state già chiedendo. Domanda numero 5. Quindi sono inutili i fitness tracker e le calorie che indicate a video? Allora questa è la domanda per eccellenza e restate con noi perché domenica prossima saprete come la pensiamo e perché naturalmente abbiamo deciso fin dall'inizio di inserire le calorie in tutti i nostri video. Bene la prossima domenica concluderemo questo video lasciandovi utili informazioni e consigli naturalmente per un corretto uso della misurazione calorica. Se non lo avete già fatto ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le nostre notifiche. E ora passiamo ai video della prossima settimana. Allora questa settimana abbiamo workout per tutti i livelli. Iniziamo subito da lunedì lunedì uscirà un resistance gambe e glutei super tosto ve l'ho detto. Martedì una sessione di flex and tone per principianti quindi molto facile. Mercoledì un cardio senza salti di livello base plus. Giovedì una sessione di stretching total body da 20 minuti quindi anche veloce. E venerdì un bel ph che amate tanto lo so con esercizi in piedi e a terra di livello intermedio plus. Bene ragazzi vi auguro una buona serata vi porto come al solito i saluti di tutto il team fix fit e noi ci vediamo domani con un super resistance gambe e glutei. Vamos!